Il cuore del più geno, cioè il cuore della piccola impresa, un mondo che vive in una dimensione europea a volte più come un problema che come un'occasione. Lei pensa che l'Europa sia un'occasione, ma se dovesse dare una frase per convincere un piccolo imprenditore che l'Europa è un'occasione, quale frase sceglierete? L'Europa è un moltiplicatore di opportunità e non deve essere un moltiplicatore di vincoli. Lo è stato nel periodo della crisi e dell'austerità. Dobbiamo lavorare per semplificare, per lottare contro la burocrazia, ma anche per sfruttare meglio l'Europa che offre opportunità di sviluppo, fondi europei e nuove normative per l'impresa.